Arriva l'annuncio ufficiale per Apple, confermata anche la sede, sarà San Giovanni a Teduccio nel polo d'ingegneria costruito negli ex capannonicidio. Siamo veramente felici di lavorare con l'Università di Napoli per lanciare la prima accademia di sviluppatori in Europa, ha affermato Luca Maestri, CFO di Apple. Alcuni degli sviluppatori più creativi al mondo arrivano dall'Europa e siamo certi che questo centro aiuterà la prossima generazione ad acquisire le competenze necessarie per avere successo. E la regione annuncia 7 milioni nei prossimi tre anni per mille giovani nel centro di sviluppo IOS, mille borse di studio per studenti campani e provenienti dall'estero. Gli studenti parteciperanno ad un corso di nove mesi progettato e supportato da Apple con una struttura dedicata presso il nuovo campus a San Giovanni a Teduccio. La struttura include laboratori e accesso ai più recenti prodotti hardware e software Apple. Con questa iniziativa, dichiarato il Rettore Gaetano Manfredi, la Federico II continua a rispondere alle esigenze formative legate alle nuove tecnologie che devono rappresentare un complemento ai programmi tradizionali che la nostra Università continuerà ad offrire con lo stesso impegno e la stessa qualità di sempre. Siamo molto soddisfatti perché una delle più importanti aziende globali è deciso di investire al Sud, a Napoli. Commenta su Facebook il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Se anche noi la smettiamo con il racconto senza salvezza del Sud e valorizziamo le eccellenze che sono così numerose, ce la possiamo fare. Come ci dicono anche i dati Istat della settimana scorsa. Dall'accademia di Apple non usciranno sullo sviluppatore IOS molto richiesti nel mercato del lavoro, ma anche giovani imprenditori che da un'idea vincente faranno nascere aziende che porteranno ricchezza ai posti di lavoro. Grazie.